Gesù Maria Giuseppe, carissima comunità di Altavilla-Silentina, ci ritroviamo già nella retta finale di quello che è la nostra Tredicina, la grande festa per cui ogni anno ci diamo un appuntamento. Abbiamo fatto tante tentative per dare il meglio e poter celebrare così questa festa religiosa a cui ci teniamo tanti, non soltanto il convento, ma tutta la comunità di Altavilla-Silentina. Perciò insieme al Comune, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, abbiamo organizzato un programma affinché tutti possiamo partecipare, logicamente rispettando quelle che sono le norme che si sceglie la CEI, la nostra diocesi e anche quello che ci chiede lo Stato, sempre mantenendo il limite e con la distanza sociale, portando la mascherina, portando il nostro gel per igienizzare le nostre mani e avendo anche le disinfettazioni dovute, abbiamo voluto celebrare all'aperto e nel piazzale del nostro convento. Per la nostra festa, proprio che è più in grande, il giorno 13, abbiamo organizzato e chiesto il permesso al Comune, che ringrazio anticipatamente, del campo esportivo. Approfitando della norma norma che ci ha dato anche la CEI e che ci dà anche la nostra diocesi, ecco, di poter celebrare all'aperto e in un luogo pubblico, allora riteniamo che il luogo più ad alto è il campo esportivo e quindi celebreremo tre Eucaristie, una alle 7.30 del mattino, una alle 9.30 del mattino e subito dopo, ecco, chi vuole venerare il Santo, il Santo resterà lì proprio in questo segno di comunione, in questo segno di incontro per chiedere le nostre grazie e fare la nostra preghiera personale. E poi subito dopo alle 19.30 celebreremo l'Eucaristia del ringraziamento. ringraziamento. Dopodiché, come dice la norma, in forma privata rientrerà il Santo nella sua cappella e resterà lì per la venerazione, ecco, che facciamo annualmente. E quindi continuerà la nostra programmazione. La domenica celebreremo l'Eucaristia alle 11 del mattino in parrocchia e poi alle ore 19 la grande solennità del corpo e sangue di Gesù, ecco, è nel nostro piazzale. E subito dopo la preghiera finale, un momento di adorazione. E così concludiamo tutta la nostra festa ringraziando Dio, ringraziando San Antonio che intercede sempre per noi davanti al Padre e celebrare, ecco, la festa di quello che è la gioia di stare insieme, ma celebrando la comunione. Ecco perché già invito anticipatamente tutte le nostre contrade. Invito anche la comunità ecclesiale di Borgo Cariglia, la comunità ecclesiale di Cerrelli, la comunità di Cerro Cupo e tutte le altre contrate a partecipare, a celebrare insieme, ripeto ancora, rispettando le norme, quello che è la nostra festa in onore a San Antonio. Grazie a tutta la comunità che si ha prodigato, grazie al Comitato, grazie al Comune ancora, grazie alla protezione civile, grazie ai cannabinieri, grazie alla Polizia Municipale e a tanti volontari che nel silenzio, anche ai nostri commercianti, si sono prodigati affinché nel piccolo diventi una cosa straordinaria e bella per dare il meglio per la nostra città. Grazie ai miei confratelli sacerdoti, grazie ai nostri novici, alle nostre sore, grazie alle persone che collaborano, ripeto, e nel silenzio anche nel convento, mettendo i fiori, sempre mantenendo la distanza e il rispetto delle norme, ecco hanno offerto il suo tempo, hanno ritagliato un po', ecco, di quelle che sono le sue attività, ecco, per offrire questo tempo a Dio, ecco, e celebrare la gioia insieme. Grazie a tutti coloro che si prodigano ai fioraggi, soprattutto che sono stati disponibilissimi, ecco, per farci trovare anche i fiori. E a tante persone, ripeto, che ancora oggi, ecco, continuano a prodigarsi perché possiamo celebrare il giorno 13 di una maniera sana, pacifica, ma soprattutto nella gioia. Invito il coro interparrocchiale, invito il coro parrocchiale e tutte le persone, ecco, che vogliono celebrare questo momento così velo per ringraziare Dio tramite l'intercessione del nostro amato santo Antonio. Gesù Maria Giuseppe e prepariamoci per questa grande celebrazione e l'amore in Cristo manifestato nell'Eucaristia e nella gioia dei Santi, che sono il nostro tesoro, che sono l'oro della Chiesa. Testimoniamo la nostra fede. Gesù Maria Giuseppe Grazie. Grazie a tutti.